Amici dal Bardo, anche oggi eccomi qui con tutte le ultime news dal mondo della Davide a Lui. Ma prima spalancate le orecchie perché oggi Ro è alle 13.55 circa su Sky Sport Arena, il canale 204, 13.55 circa. Il panì sesto questa settimana ahimè è un po' avaro e la prima replica per ora è fissata per venerdì alle 10 sulla stessa frequenza. Portate pazienza perché i disagi, così mi hanno detto, stanno per terminare. E ora andiamo alle news, molte delle quali ve le ho già anticipate ieri nella sezione community che vi invito a seguire con costanza e con una certa frequenza. Allora, 24 ore fa circa la WWE ha annunciato che Ronda Rousey contro Becky Lynch contro Charlotte Flair sarà il main event di Vrestalmania. Come da video analisi che avevo pubblicato qualche decina di minuti prima, tempissimo perfetto, credo che la scelta fosse inevitabile per parecchie ragioni, sia di marketing, oltretutto siamo a New York, quindi la città che fa da ripetitore per tutta la nazione, quella che indica i trend, quella che insieme a Los Angeles insomma è un po' una delle due capitali del mondo concreto, dicevamo in ragioni di marketing ma anche di immagine e aggiungerei anche di progresso narrativo che quel match, quello a tre delle ragazze può garantire. Mi ha sorpreso invece la violenza verbale con cui molti sui social si sono scagliati contro questa decisione e di ciò e di altro di correlato se ne sta discutendo proprio nella sezione community di questo spazio youtubico, pertanto se vi va di partecipare al dibattito dateci una occhiata. Intanto la notizia ha già fatto il giro dei media americani, portando enorme attenzione verso la federazione che ha deciso evidentemente di svelare le carte in anticipo contando proprio su quest'onda di ritorno. Ronda, Becky, Charlotte hanno già ricevuto una chiamata dalla ESPN e pare abbiano tra le mani una fittissima agenda di impegni da qui al giorno di Vrestelmania. Dunque sentiremo molto parlare di loro e leggeremo le dichiarazioni delle tre atlete un po' in tutte le salse. Come side news vi riporto come molti siti americani stanno riferendo che la WWE ha offerto un rinnovo di contratto a Becky sulla durata di parecchi anni e ovviamente con un sostanzioso aumento di ingaggio. Come sempre su tutto ciò che riguarda questo comparto, quello economico, ricordatevi che ciò che ci arriva da oltreoceano è sovente impreciso. Dunque prendete queste voci con tutte le precauzioni e le cautele. Ronda Rouse invece ha rivelato che per il Raw del primo aprile voleva annunciare nel ring di essere incinta e di dover dunque cancellare il match di Vrestelmania salvo poi ritrattare il tutto e prendere in giro i fan per aver abboccato a quel pesce d'aprile. Parlando di questa sua idea con Paul Heyman qualche giorno fa tuttavia la ragazza ha scoperto da quest'ultimo in anteprima che sarebbe stata nel main event e che ormai la decisione era stata presa. E dunque quel piano, quell'idea sarebbe diventata inattuabile proprio perché l'è stato comunicato che la WWE avrebbe strombazzato la cosa ai 4-20 nel giro più breve possibile, in un giro brevissimo di giorni. E quindi Ronda si è trovata con questa idea che le era venuta per deridere un po' i tifosi e se l'è trovata bruciata dal tempismo della federazione. La Rouse ha poi reclamato per sé il titolo di Miss Vrestelmania un po' sulla scia di come Shawn Michaels anni fa iniziò a chiamarsi Mr. Vrestelmania con il soprannome che con il tempo ha attecchito. Il fatto che Ronda fosse pronta a giocare sulla sua presunta maternità sta forse anche a sottolineare come i lottatori non siano poi così distanti dei rumor che girano e in quel caso la Rousey avrebbe sicuramente fatto perno su un qualcosa che molti danno per certo e assodato ovvero che lascerà a breve la federazione per aumentare di numero la sua famiglia. Ma sarà poi vero? Non lo so. Staremo a vedere. Sempre ieri la WWE ha ufficializzato che Brad Inman Hart e Jim D'Enville Nightart conosciuti collettivamente come la Hart Foundation entreranno nella Hall of Fame nella classe del 2019. Il loro nome, se seguite questo TG, era in giro ormai da un mesetto, più o meno. Però adesso anche la federazione ha ratificato la cosa e dunque siamo in una botte de ferro. Non credo che ci saranno altri annunci per la Hall of Fame però stiamo a vedere. Tra l'altro leggevo in giro che la compagnia vuole un po' modificare il format proposto negli ultimi anni quindi niente padrini, niente presentatori, spazi verbali ridotti a 15 minuti per ogni entrante nella Hall of Fame per rendere questa cerimonia sempre più televisiva e sempre meno pesante per il pubblico e per gli stessi lottatori che vi assistono. Da qualche ora Mustafa Ali non si chiamerà più così anzi non si chiama più così per scelta della federazione che sta abbreviando molti nomi come quelli degli Heavy Machinery o quello di Andrade l'atleta da adesso in poi verrà identificato solo come Ali peraltro dovrò capire bene se e quanto accentare la I finale visto che spesso mi escono suoni diversi tra una dizione e l'altra nel caso qua sotto nei commenti datemi una mano a capire quanto far sentire la I finale di Ali o Ali bella domanda cercherò di udire meglio la pronuncia americana dopo Brie anche sua sorella Nikki Bella ha annunciato il ritiro dal ring le due ragazze tuttavia saranno presenti all'Access di Vrestalmania che è il festival aperto ai fan proposto nei giorni e nelle ore che precedono l'evento e saranno lì per firmare autografi dunque c'è chi mi ha chiesto come mai si ritirano e vanno all'Access beh è chiaro all'Access non si combatte si fanno pubbliche relazioni ci si fa vedere avere l'autografo degli atleti premium costa una cifra aggiuntiva e non escludo che parte di quella cifra finisca proprio nelle tasche dei combattenti in aggiunta a ciò Nikki e Brie hanno lanciato il loro podcast personale che tra i combattenti anzi tra gli ex combattenti va molto di moda nella speranza che diventi un appendice di successo dei programmi tv dei quali fanno parte il giocatore di football Rob Gronkowski The New England Patriots si è ufficialmente ritirato la notizia è freschissima e vista la sua amicizia con Mojo Roley e la passione concreta per la WWE mai celata non è detto che non trovi l'accordo con la federazione per fare qualcosa con essa replicando la sua partecipazione come guest star nelle fasi finali della Battle Royale dedicata alla memoria di Andre the Giant di Vrestelmania 33 voi cosa ne dite? Gronkowski passerà al ring oppure sono tante chiacchiere ma dietro al vento non c'è nessuno che soffia stiamo anche qui alla finestra sulla riva del fiume ad attendere ma intanto devo riferirvi che Rob è già stato sfidato sui social dai The Revival che non hanno perso tempo per mettere le mani avanti intervistato da The Independent Coffey Kingston stavo per dire Kevin Owens chissà perché ma in realtà è Coffey Kingston Kevin Owens in effetti è un po' scomparso il suo ritorno non è stato poi così eccezionale ma va bene parliamo un'altra volta dicevo Coffey Kingston ha indicato in Apollo Crews un altro talento WWE molto sottovalutato che gli farebbe piacere ricevesse una chance di mettersi alla prova in scenari differenti da quelli attuali Apollo che è arrivato a NXT nel 2014 con la fama di uno dei migliori wrestler indipendenti sulla piazza in effetti nei main roster ha sempre occupato ruoli parecchio marginali tuttavia il New Day è un po' il simbolo, l'emblema che dopo aver mangiato la minestrina per tanti anni puoi passare alla pasta asciutta e ai rigatoni Big X, Xavier Vux e lo stesso Coffey Kingston prima di formare questa fazione erano un po' delle mine vaganti quindi chissà che le cose non si aggiustino anche per Apollo tra l'altro di recente proprio Crews è stato elogiato su Twitter anche da Luke Harper la cosa può sembrare un po' inquietante ma i due hanno dei trascorsi comuni proprio nella scena minore e quindi si conoscono atleticamente parlando abbastanza bene stando agli ultimi report pare che CM Punk tra un progetto artistico e l'altro si stia ancora allenando alla Rufus Sport MMA Academy di Milwaukee nella speranza di avere un domani, di ottenere un domani una terza possibilità nei ring delle arti marziali miste dopo le due sconfitte rimediate in precedenza in UFC beh, non so come andrà a finire però bisogna aggiungere che insomma, panche tenace, un altro avrebbe gettato la spugna si sarebbe accontentato di fare l'attore di scrivere fumetti, insomma le cose che sta facendo adesso di dedicarsi a programmi televisivi invece io credo che anche per orgoglio vincere almeno un match in una federazione prestigiosa non in un contesto di camionisti contro scaricatori di porto lui lo desideri, lo senta, cioè deve farlo e non se ne vogliano male le due categorie che ho indicato è un luogo comune per dire tra gente che picchia duro ma che non ha preparazione tecnica ovviamente e per entrare in MMA a livelli alti UFC, Bellator e via dicendo la preparazione tecnica è fondamentale restando in tema UFC, il campione dei pesi massimi Daniel Cormier ha minacciato di irrompere a Brestalmania per far perdere il titolo di campione universale a Brock Lesnar al momento di registrare questo video queste dichiarazioni sembrano soltanto aria fritta per aumentare la pubblicità di un possibile futuro scontro tra i due ma le stagioni passano, il tempo corre Cormier sostanzialmente da quanto avevo capito io voleva questo match con Lesnar per mettersi in tasca forse la più alta elevata borsa della sua vita per poi anche lui pensare di chiudere la carriera però se Lesnar continua a stare nel mondo del wrestling e della WWE le cose non si possono avverare e anche quest'anno a ridosso di Brestalmania tutto questo aggancio, questa seduzione che Lesnar subisce almeno mediaticamente verso le arti marziali miste potrebbe tramutarsi in richieste sempre più pressanti e importanti a WWE per ottenere il rinnovo contrattuale parlando di soldi, di rinnovi, di accordi nei giorni scorsi Alberto Del Rio ha lasciato intendere ancora una volta di avere una porta aperta verso il ritorno in WWE non è la prima volta che lo fa poi sottolinea sempre che io non chiedo, non ho bisogno né loro mi hanno cercato però abbiamo parlato, ci sono stati degli abbocchi chissà potrebbe essere, potrebbe accadere ecco Alberto da quanto traspare a me sembra che la federazione non abbia così tanta voglia di riprenderti a bordo per via del tuo passato burrascoso inoltre la compagnia ha tantissimi giovani talenti attualmente sotto contratto insomma tu purtroppo hai dato prova di essere un gran piantagrane di essere soprattutto incontrollabile a livello social che è una cosa a cui la WWE tiene parecchio non tanto nel dimostrare malumore ma proprio nella tipologia di eloquio di parlata, insomma andare sui social, mezzi ubriachi infarcire i propri discorsi di parolacce non è proprio il biglietto da visita mediatico che la compagnia oggi sta cercando è chiaro che gli errori del passato potrebbero non ripetersi però insomma ciò che è accaduto in qualche modo ti rimane sempre attaccato come un adesivo prima di chiudere pare che Kate Lee il Blackzilla di NXT si sia infortunato ma al momento non ci sono informazioni addizionali al riguardo dunque potrebbe anche trattarsi di una cosa di poco conto che si risolverà in qualche giorno direi che con questo ho terminato ma prima di andarmene vi ricordo ancora una volta che per motivi legati al palinsesto e alle tante dirette di Sky oggi Roe alle 13.55 circa su Sky Sport Arena il canale 204 qui sotto invece con educazione che è una cosa importante e fondamentale che vi viene richiesta da questo canale con dita roventi potete commentare tutte le news che ho condiviso con voi in quanto al resto noi ci vediamo quanto prima sempre e solo qui sul canale del Bardo alla prossima ciao